E' stato un lunedì nero per il trono di Pesaro, che dopo i generosi incassi del Black Friday ha rischiato di perdere il ricavato del primo weekend di shopping natalizio. Poco prima delle 12.30, tre malviventi a bordo di una Giulietta nera hanno bloccato in retromarcia il furgoncino portavalori bianco parcheggiato di fronte all'ingresso del negozio, dove la giurata aveva appena appoggiato una borsa nell'abitacolo per poi mettersi al posto di guida. Dall'alfa sono scesi due malviventi, uno si è diretto verso il posto del passeggero con in mano una mazza, l'altro invece corso di fronte al furgone e ha iniziato a sparare. Almeno tre colpi, ad altezza d'uomo. Solo la blindatura del cristallo ha salvato la vita della guardia giurata. Mentre uno sparava, l'altro ha mandato in frantumi il vetro lato passeggero del furgoncino, arraffando la borsa di fianco alla guardia giurata dopo una breve collutazione. I soldi però, pare circa 20.000 euro, erano al sicuro nel vano di carico blindato e malgrado il commando abbia provato ad aprire la porta, dopo poco ha dovuto desistere, considerando che il tutto è avvenuto in pieno giorno e che polizie e carabinieri sono intervenuti sul posto nel giro di pochi minuti. Mentre i due uomini assaltavano al furgone, il terzo ha tenuto il motore acceso per poi scappare a tutta velocità una volta recuperati i complici. La guardia giurata ha riportato lievi lesioni dovute ai vetri in frantumi ed è stato trasportato in ospedale dal 118 ma non ha riportato ferite gravi. Ora è caccia al commando. Polizie e carabinieri stanno setacciando la provincia. Le prime ore dopo la rapina sono le più importanti per le indagini.